Buona e santa giornata a tutti, buon mercoledì, eccoci qui perché vogliamo con tutto il nostro cuore dire ancora una volta Gesù confido in te, io credo in te, io spero in te Signore, io ti amo e ti voglio amare, conosci le mie fragilità, conosci le mie debolezze, conosci i miei peccati, conosci le mie miserie, ma tu Signore tu sei il mio sostegno, la mia forza. Preghiamo per tutti, accolgo tutte le intenzioni che avete scritto oggi sui social, su Instagram, su Facebook, nella media, da tutte le parti e li affido a lui e oggi voglio chiedere in modo particolare l'intercessione di San Giovanni Paolo II, colui che ci ha donato la festa della Divina Misericordia. E allora preghiamo e non dimenticatevi mai di invocare il dono della pace. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la Sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la Sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io Ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del Tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la Sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la Sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la Sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la Sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la Sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue e acqua, che scaturisci dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in Te. E ora, Gesù, tutti noi ti domandiamo con il cuore di donarci la Tua santa benedizione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amin. La coroncina alla Divina Misericordia ritorna domani alle 15, sempre in diretta sul canale YouTube Don Francesco Cristofaro. Grazie. Grazie.